musica 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 e signori siamo in diretta questa volta dal con sono tutti stiamo giocando un attimo solo che non si vede bene state guardando la loli di questa sera di questa sera ci saranno altre si tipo te musica gina vai si si sicuro si al massimo musica 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 c'è una perda Le fattorine le toscola Gina Io mi ritiro dopo questa Sì io ne voglio Nella momento Metti anima libera per favore Perché voglio fare questo No Questa canzone è la canzone mia di Princeton Ci porta tanti ricordi alla mente A me ne porta anche altri La prima notte di sesso Di mio cugino con Princeton Ma sì anche Anche Era quella musica mentre facciano sesso Sì è un nuovo ritmo Sono le mappe Se mi ha sbattato la porta Ha sbattato la porta Ha sentito Ho sentito Veramente si è sentito il rape Non si è sentito la porta che sbattiva Era la porta che sbattiva Il rape È sempre a sbattere quella porta È una porta porca È una porca Non è una porta Giuro che se fare un montaggio Oltre alla parte in cui scleravo prima Violentemente ci sarà anche questa parte Dove canti Senza sentirti Perfetto Lo so Ok possiamo partire No Si possiamo partire Bellissimo Bellissimo come fai anche gli strumenti Non solo la voce Si lo so Strumenti signori Questa qua è elettronica pura strumenti Gli strumenti nel senso elettronico Ma sei una soccola Non dire troiate Stai zitta Stai zitta Alla bene Qual è il nome della partita? Stai zitta porcia 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 Ok, abbiamo trovato il problema, allora. Ho paura di sentire come sarà nel video, cosa stiamo? Guarda quella con le arance. E allora... Che poi il testo di questa canzone è, il testo di questa canzone è, Volevo fare una torta con le arance, però è davvero troppo amare e ho pianto, questo è. Ho pianto. Sto scherzando, una volta facendo il testo è questo. Puoi fare una torta? Oh no, le arance sono amare. Ma qualcuno... Ah, scusate, avevo preso delle cuffie che stavano a terra, che sono lì cadute a terra di nuovo, un attimo. Che cazzo stai dicendo? Pazza! Pazza! Sì, non ho idea di che cazzo sia perché non l'ho visto. No, è un libro. Stai zitto. Notare che c'è quella piccola rica che corre sotto. Non so chi cazzo sia. E vabbè. Non lo posso dire per evitare di spoiler. Esatto, è mio cugino quella sotto. C'è... Ho questa cosa che ogni tanto la mano se ne va a cazzo su quando stavano sulla tavoletta. Parkinson! No, no, no. Nel senso si storce. Parkinson! Si storce il coso, il polso. Mmm... I'm alive. I'm alive! I'm alive! I'm alive! I'm alive! Eh già! Anche la destra. Perché evidentemente, perché evidentemente ho messo l'area della... come si chiama? Evidentemente il fapping! No! Praticamente l'area della mia tavoletta! Il fapping! L'area della mia tavoletta! È l'area della mia tavoletta! È molto... Ristretta sulla destra! È molto più grande rispetto all'utilizzo comune che faccio nella mano destra! Teoricamente è più piccola. Ah no! Mi dispiace, ho già detto che era larga. Molto più larga, moltissimo. No. Si. No. No! Sono in piedi! Sono in piedi! Come... Perché eri in piedi? Non lo so. Non lo so, mi sono ritrovato in piedi, in effetti. What? E.P.I.U. Sempre qui, su Stai Zitta Porcia, a giocare una mappa di Lisa, che si chiama Crossing Field, ed è l'opening di Sword Art Online. Mandiamo un ciao ad Aron che ama questo gioco! Ciao Aron! Gioco! Ha detto gioco! Adesso gioco Sword Art Online, esatto! Eh, signori, sapete, attraverso le nuove tecnologie, come per esempio l'Oculus Lift, ci stiamo avvicinando sempre più velocemente a quello che è Sword Art Online. Non è vero! Moriremo tutti! Moriremo tutti! Moriremo tutti! Prinson, moriremo tutti! Aiutati tu! No, in realtà, Prinson è il creatore proprio di Sword Art Online. Prinson è... Come cazzo si chiama? Eh... Kayaba. In questo cazzo sarà Prinson, invece. Si chiara proprio Prinson. Ora è Boobs. 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 Sì! 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 Non ho sentito nulli! 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 Sì! 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 Eh... Tecnicamente c'è l'intenzione mia di Prinson di vedere un attimo Clannad di finirlo di vedere. Perché tipo... Eh? 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 Cosa? Cosa? Addio! Addio co- Addio ha detto. Sì! Ah! Scusa Gina! Volevo fare una cosa... Iiii! Scarica- Scarica-